Buongiorno, pace del Signore, Dio ti benedica e che Dio ci benedica insieme anche oggi nello studio della sua benedetta parola. Siamo qui proprio per questo, per continuare a studiare la vita di Giobbe. Questo studio che abbiamo iniziato da pochissimo, questo è il secondo video, anzi il terzo, solamente perché il primo era solamente un'introduzione, però effettivamente questo è il terzo video dove continueremo diciamo quello che avevamo iniziato nel video precedente. Nel video precedente, giusto per capirci, avevamo parlato che Giobbe, secondo la scrittura, era un uomo, un uomo quindi vero, una storia vera, non è né una leggenda né una favola, addirittura avevamo considerato che la Bibbia ce ne parla ampiamente nel suo libro, nel libro di Giobbe, ma poi ne parla pure il profeta Ezechiele e addirittura ne parla anche l'apostolo Giacomo nella sua epistola. Quindi è assolutamente una storia vera, poi tra l'altro è nella parola di Dio, quindi è assolutamente certo che è così, però questo è stato l'argomento dell'ultima volta. In questo video invece vorremmo analizzare il paese di Giobbe. Come abbiamo letto l'altra volta dal capitolo 1, abbiamo letto tutti i primi cinque versetti che analizzeremo piano piano, questa volta leggeremo solamente il primo versetto del capitolo 1 perché ci parla proprio di questo. La scrittura dice così, c'era nel paese di Uz un uomo. Ecco, questo è il testo che leggeremo e andremo a parlare un pochettino di questo paese. Ora, una cosa che ho trovato nel libro che sto studiando e che parla ovviamente di Giobbe, nelle prime civiltà i paesi venivano indicati spesso con il nome di alcune persone e nella Bibbia vi sono due personaggi, anzi diversi personaggi che si chiamano proprio Uz, proprio come il paese dove ha abitato Giobbe. E questi paesi, questi personaggi scuse, mi sono indicati come fonti possibili per il nome del paese in cui viveva Giobbe. Allora, il primo riferimento è Aram, un nipote di Sem, aveva un figlio che si chiamava Uz. Infatti lo troviamo scritto nella Bibbia, nel libro della Genesi, al capitolo 10, il versetto 23, la scrittura dice che i figli di Aram furono Uz, Ul, Geter e Mas. Quindi questo è il primo riferimento al primo personaggio e poi ne abbiamo anche un secondo che sarebbe un Idumeo, un figlio di Disab, il figlio di Seir, che fu chiamato appunto Uz e questo lo troviamo sempre nel libro della Genesi, al capitolo 36, il versetto 28, che dice così questi sono i figli di Disan, Uz e Aram. Ecco, questi sono i due personaggi che la Bibbia ci mette in evidenza con questo nome e l'ipotesi dell'associazione del nipote di Sem all'antico paese di Uz è quella più plausibile, secondo alcuni storici e secondo alcuni commentatori. Appunto, dobbiamo sottolineare, è un'ipotesi perché in realtà il paese di Uz non può essere identificato con certezza, non abbiamo una località certa di dove era questo paese, un punto ben preciso, quindi sono solamente dell'ipotesi. Addirittura uno studioso della Bibbia che si chiama Arnold Gabelain, lui afferma questo che è il paese di Uz, e ovviamente ripeto che è sempre un'ipotesi, il paese di Uz si trovava a est della Palestina e probabilmente faceva parte dell'Idumea, della ragione degli Idumei, o era molto vicino al paese di Edom. Ora, questa ipotesi sembra essere confermata anche dalle scritture. Infatti, nel libro delle Lamentazioni, capitolo 4, al versetto 21, dice così la parola di Dio, esulta, gioisci, o figlia di Edom, che risiedi nel paese di Uz. Ecco, questo è un altro riferimento che troviamo di questo paese. Tra l'altro, questo paese viene menzionato anche dal profeta Geremia, che lo puoi trovare nel libro appunto del profeta Geremia, capitolo 25, il versetto 20. Quindi sicuramente, probabilmente, si trovava sul confine di Edom, o all'interno comunque di questo territorio. Quindi non sappiamo bene dove fosse collocato questo paese, però una cosa la sappiamo per certa, che la Bibbia ci dice che è stato il paese dove ha abitato Giobbe, dove ha abitato Giobbe e l'intera sua famiglia. Quindi è un paese riconosciuto, è un paese certamente, e non sappiamo dove sia, però lo confermiamo come parola di Dio. Questo è quello che volevo meditare con voi in questo mini studio biblico, è proprio un tralcio di uno studio biblico, però era doveroso fare questa anticipazione, perché essendo che è appunto dove stiamo facendo uno studio, è buono sapere anche alcuni aspetti non solo teologici, ma anche storici e culturali. Quindi questo video si conclude così, Dio ti benedica, ci vediamo al prossimo video e che la pace del Signore ti accompagna anche oggi. A presto!